Oltre il festival, in diretta da Sanremo. Abbraccio virtualmente a Villa Nobel Fiorella Mannoia, benvenuta! Eccoci. Faccio lo straordinario, ma molto volentieri, ho messo la giacca per questa occasione, perché sono onorato di incontrarti seppur a distanza. Grazie, grazie di cuore. Ma chi può parlare... Buongiorno a tutti, ecco, eravamo un po'... Eravamo rimasti al buongiorno. Chi può parlare meglio delle donne se non Fiorella Mannoia, eh? Beh, questa è una canzone proprio, è un inno alle donne, è un manifesto femminile, per cui sì, ne vado molto orgogliosa, lo dico anche nella canzone. Orgogliosa canto. Il nome del brano Mariposa è nato durante la visione di una serie che si chiama Il grido delle farfalle, non riesco a dirlo bene nel titolo originale, dovrebbe essere Il grido de las mariposas. Esatto, è Il grido de las mariposas. Las mariposas, cioè le farfalle, erano le sorelle Mirabal, che sono... erano quattro sorelle, tre delle quali sono state trucidate dall'allora dittatura del generale Trujillo. Sì, dominicano. E sono furono uccite... Sì, nella Repubblica Domenicana. Erano attiviste politiche che si battevano appunto contro la dittatura, furono trucidate, ammazzate e buttate dentro un dirupo. Da lì, e furono uccise il 25 di novembre 1960. La giornata mondiale, forse non tutti sanno, la giornata mondiale contro la violenza domestica, la violenza sulle donne, nasce proprio dall'uccisione della smariposas. Per questo noi, insomma, la ricordiamo e la festeggiamo, tra virgolette, come festa contro la violenza sulle donne. Ecco, hai fatto bene a dirlo perché molti evidentemente non lo sanno. Tu nella canzone dici una strega, una farfalla, una regina, una sposa, il coraggio, lo specchio, la moda, l'amore e il vanto. Cos'è più difficile oggi essere per una donna? Beh, insomma, diciamo che ormai la consapevolezza dell'emancipazione c'è. Certo è che tutte le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, perché in realtà tutti gli stereotipi che ci portiamo dietro da millenni, ma non sono le donne, anche gli uomini, no? Bisogna per scardinarli, visto che sono così radicati, ci vuole tempo. Alcuni uomini ancora non accettano l'emancipazione della donna perché si sentono come, a causa di questo retaggio, si sentono come così sviliti nella propria virilità, no? Si sentono sminuiti, come mi lasci, come puoi tu lasciarmi? Ed è questo il problema. E le donne si portano dietro ancora, ci portiamo dietro ancora, quella sindrome, no? Da crocerossina, di dover salvare per forza, di dover accudire per forza. Per cui siamo tutti e due vittime di questa mentalità così millenaria e antica. Ci vuole tempo, ma noi continuiamo a lavorare. Indietro non si torna, anche se qualche volta ci provano, ma non ci riusciranno. Ecco, le canzoni possono fare molto e volevo anche associarti al messaggio del film di Paola Cortellesi che c'è ancora domani, perché il caso ha voluto che qualche anno fa Paola Cortellesi cantasse la tua a quello che le donne non dicono. Sì, 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 è vero. È vero, sono molto orgogliosa di questo, perché Paola ha fatto un film bellissimo che ha fatto riflettere proprio su questi stereotipi, visto che il film è ambientato negli anni 40, appena dopo la guerra, e fa capire esattamente i meccanismi che ci sono e che c'erano e ci sono ancora, purtroppo, tra questi rapporti così malati tra uomo e donna. Vero, bellissimo. Non da vedere, da rivedere cento volte e far vedere. Assolutamente, sì, sì, sì. Ieri per la serata delle cover con Francesco Gabbani, come mai questa scelta? Beh, guarda, ritornare sette anni dopo a Sanremo e per me era naturale andare con la memoria dove ero rimasta. E io ero rimasta su quel podio insieme a Francesco che ci contendavamo il primo posto. È vero, è vero, me lo ricordo, me lo ricordo. Per cui, sai, io non vado mai a Sanremo con questa aspirazione. Io vado a Sanremo sempre quando penso di avere una canzone adatta, una canzone che merita di essere ascoltata. e poi Sanremo è l'unico palco che ti offre questa possibilità quando ti ricapita di cantare davanti a 18 milioni, non so quanti erano, ma un'infinità di telespettatori. Per cui io vado a Sanremo sempre con questo intento quando penso di avere una canzone valida. Poi quando sei lì è normale che se succede qualcosa come è successo a me sette anni fa, non ti nascondo che eravamo lì tutte e due, ognuno dei due, sperava di vincere. Però basta, insomma, ha vinto Gabbani, io sono stata felice lo stesso. Quel gesto di inginocchiarsi davanti a me lo porterò nel cuore per sempre perché ho trovato un gesto di una cavalleria, di una eleganza, di una gentilezza. Lo ricordiamo anche noi con molto piacere, con molta delicatezza, diciamo, veramente questo approccio di rispetto nei confronti di Fiorella. Ma noi è di tutte le donne, insomma, che non sempre vincono il festival. Eh sì, per cui è stato un gesto veramente di gentiluomo, ecco. Che non ci guasta e non è che ci dispiace, ecco. Un tuo giudizio sulle canzoni di Sanremo di quest'anno? Guarda, noi, vorrei ribadire, che non so i miei colleghi cosa hanno detto, ma noi non sentiamo niente. Io non ho sentito, non ho visto l'esibizione di nessuno altro, solo della persona che mi precedeva sul palco. Perché poi, prima siamo nei camerini e ci trucchiamo, ci ritocchiamo, per cui chi guarda niente. Poi dopo, finita la performance, ritorniamo sul, andiamo dietro il palco, poi ci sono le dirette con le radio, poi, e chi vede niente? Ci saranno mesi e mesi per ascoltarle. Invece volevo concludere. Io so, peraltro, che ci sono su quel palco tanti miei amici, tanti miei colleghi, tante mie colleghe. Io, così per affetto, non me ne vogliano gli altri. Io tifo per Loredana, ho sempre tifato per Loredana, per cui anche quest'anno farò così. Una canzone fortissima, quella di Loredana. Volevo concludere con il messaggio di un'ascoltatrice che saluto, Isa di Altamura, che ti adora. Ha scritto, potete dire a Fiorella Mannoia che se non si impegna di più mi fa perdere il Fanta Sanremo. Cos'è sta storia? Cosa dovresti fare? Ma cosa non dovrei? Non mi devi chiedere la domanda al contrario. Qui quando si va su quel palco, mentre canti devi pensare, devo scendere scale, devo dare i fiori al direttore orchestra, poi devo dare il 5 al conduttore, no, non al conduttore, al co-conduttore. Poi dovrei abbracciare Amadeus, poi bisogna metterci gli occhiali da sole, poi bisogna stare scalzi, poi no, basta, io non ce la faccio più. Devo dire la verità, Basta, sono esausta. No, sono esausta. Abbiate pietà di me, vi prego. Dai, ancora 12 ore, poi sarà quasi finita. Noi ti abbracciamo forte, forte, ti auguriamo in bocca al lupo per le tue cose e per te che sei Fiorella Mannoia che vale tutto. Grazie, grazie di cuore a tutti. Perdonatemi se proprio non ce la faccio a ottemperare a tutti questi impegni gravosi sul palco di Sanremo. Farò quello che posso. Ascoltiamoci Mariposa, grazie Fiorella Mannoia, un bacio. Grazie a voi, un bacio a tutti. Oltre il Festival, in diretta da Sanremo.